Ritorno dall'Isola dei Famosi Matilde Brandi e il suo stato di salute. Conclusa la sua avventura all'Isola dei Famosi, per Matilde Brandi è arrivato il momento di fare ritorno in Italia. Accompagnata dall'ex naufraga, c'è anche l'amica Manila Nazaro, che dopo il matrimonio con Stefano Radei si era recata in Honduras per una gradita sorpresa. È stata proprio la neo-sposa a mostrare a tutti in che condizioni si trova la showgirl dopo l'ardua esperienza honduregna.Infatti, dopo l'Isola dei Famosi, Matilde Brandi non si trova certamente al massimo delle sue energie. Manila Nazaro ha deciso di registrare un video e di condividere le immagini sui social. In particolare, i follower hanno avuto accesso a tutto tramite una storia su Instagram, che è rapidamente diventata virale. Scopriamo come si sente l'ex concorrente del reality show di Vladimir Luxury appunto certamente. Una volta conclusa l'avventura all'Isola dei Famosi, Matilde Brandi ha finalmente potuto soddisfare un desiderio che le mancava da tempo, proprio in compagnia di Manila Nazaro. Il mio primo cappuccino dopo 60 giorni. Buonissimo! Tuttavia, l'amica la ripresa con il cellulare mentre salivano le scale dell'aeroporto. Momento in cui Matilde ha dimostrato di avere qualche difficoltà in più del previsto punto Manila si è rivolta a Matilde con preoccupazione. Non ce la fai, sei senza forze. Senza muscoli, senza niente. Devi muoverti un po'. E Matilde ha risposto, ti ricordo che sono due mesi. Quindi, ha ammesso di essere estremamente stanca. Nonostante il sorriso sulle labbra, si nota un affaticamento fisico evidente. E ci vorrà del tempo per ritrovare la sua forma precedente. L'ultimo post su Instagram di Matilde Brandi mostra un'immagine di lei in Honduras, accompagnata dalla didascalia. Questa non è la fine di un viaggio. È l'inizio di uno nuovo punto. Questo momento di transizione rappresenta una svolta importante per Matilde Brandi, che si appresta a iniziare una nuova fase della sua vita dopo l'intensa esperienza sull'isola dei famosi. Il sostegno e l'amicizia di Manila Nazzaro saranno fondamentali nel suo percorso di recupero e riadattamento alla vita quotidiana appunto nonostante le sfide e le difficoltà incontrate. Matilde affronta il futuro con determinazione e ottimismo. L'impegno nel rimettersi in forma fisica e mentale sarà accompagnato dall'affetto e dall'appoggio dei suoi cari e dei suoi fan. Pronti a seguirla in questa nuova fase del suo percorso punto. La storia di Matilde Brandi è un esempio di resilienza e forza di volontà, che ispira e incoraggia coloro che affrontano momenti di difficoltà. Il suo viaggio dall'isola dei famosi verso nuove avventure rappresenta un capitolo importante nella sua vita, destinato a essere ricco di sfide, ma anche di nuove opportunità e successi punto. Continua a seguirci per essere aggiornato su tutti gli sviluppi riguardanti Matilde Brandi e le sue prossime avventure.